ciao a tutti da vittorio uno dei problemi che è rimasto alla lazio è francesco acerbi il giocatore non ha trovato una sistemazione e rischia di passare la stagione in tribuna nella lazio perché anche se sarebbe fantastico per la lazio non reinserirlo magari mettono in coppia con romagnoli sappiamo che questo difficilmente succederà perché il ragazzo ha chiesto accessione sarri secondo me ha discusso litigato con acerbi e quindi il rapporto si è compromesso difficilmente acerbi sarà inserito nella rosa è vero nella partita di bologna è stato inserito nella lista dei 25 ma sappiamo che si può cambiare entro la fine settembre quindi verosimilmente le cose cambieranno da qui alla chiusura del calciomercato della lazio acerbi ha già rifiutato varie offerte in monza si è parlato anche del west ham eccetera una delle proposte che è uscita negli ultimi giorni è quella di un possibile prestito all'inter una soluzione che da un punto di vista risolverebbe problema perché la lazio almeno per un anno si toglierebbe lo stipendio importante ricordiamoci la cerbi ha uno dei stipendi più importanti in casa lazio e quindi per un anno la lazio si toglierebbe questo stipendio importante il problema è che con il prestito a cerbi a primo luglio dell'anno prossimo sarebbe di nuovo formello e il problema si ritornerebbe ad esistere insomma per cui se fosse un prestito secco sarebbe la soluzione migliore per la lazio o no ecco diciamo che ovviamente se ci fosse prestito con obbligo di riscatto la lazio avrebbe tutto interesse per chiudere questa trattativa cerbi sarebbe contento perché andrebbe dal suo mentore chiamiamolo così simone inzaghi andrebbe un top club la lazio cederebbe il giocatore anche se posticiperebbe il pagamento all'anno prossimo ma la cosa è che se esce a cerbi non entra nessun altro difensore centrale per cui la lazio non ha problemi a posticipare il pagamento del cartellino del calciatore il prestito secco invece sarebbe secondo me un problema perché è vero ti togli quest'anno lo stipendio di a cerbi ma te lo ritrovi l'anno dopo e a cerbi già non è giovanissimo adesso piazzarlo l'anno dopo con un anno in più sulle spalle diventa ancora più complicato anche perché bisogna vedere anche come va il giocatore all'inter potrebbe andare benissimo magari si rilancia potrebbe anche andare male del resto a cerbi andrebbe all'inter per sostituire la nokia non un titolare una riserva che l'anno scorso ha giocato anche molto poco per cui non credo che a cerbi andrebbe all'inter a fare il titolarissimo andrebbe lì a fare la riserva e un anno dopo con un anno magari passato un panchina il valore di a cerbi crollerebbe la lazio difficilmente riuscirebbe a fare un milione di euro per un giocatore che l'anno prima non ha praticamente giocato e questo quindi è un problema gravissimo però è anche vero che a cerbi sta rifiutando tutte le destinazioni mi sembra abbastanza evidente che francesco cerbi voglia l'inter o la juventus nessuna delle due si è mossa per un'offerta alla lazio e quindi la lazio si trova una posizione scomoda a cerbi ha rifiutato anche west ham che sì non è il monza non è l'inter però è comunque una bella squadra in inghilterra probabilmente a west ham andrebbe anche a prendere di più insomma abbiamo visto molti giocatori accettare offerte da club inglese non di primissimo piano a cerbi invece ha detto di no e quindi la lazio si trova una situazione complicata perché c'è il pericolo che a cerbi spenda la stagione in tribuna la lazio idora a pagare lo stipendio e saranno soldi buttati ma anche dal punto di vista giocatore io onestamente non lo capisco perché mi sembra che ricucire il rapporto sia impossibile e che a cerbi preferisca stare un anno in tribuna la lazio piuttosto che andare a giocare nel monza o andare a giocare nel western sono cose che io personalmente non capisco ma evidentemente c'è qualcosa di più magari a cerbi si trova bene a roma e non si vuole trasferire a londra in un momento del genere dopo che ha avuto una figlia da poco però sei un calciatore e devi accettare anche queste cose no il trasferimento cambiare città sono cose che ci stanno nella vita di un calciatore e io non capisco non non ho mai apprezzato non ho mai pensato meglio in tribuna la lazio che titolare al monza e invece sembra questa la situazione ripeto l'opzione prestito non mi piace per niente perché la lazio si toglie lo stipendio per un anno ma poi si ritrova sul gruppo uno un giocatore più vecchio che magari ha giocato di meno e quindi ancora più complicata la situazione per l'anno successivo certo è che questa situazione a cerbi si sta procrastinando troppo la lazio dovrebbe cercare una soluzione e vediamo di solito negli ultimi giorni di mercato succedono cose impensabili 20 giorni prima sappiamo che l'inter sta alla ricerca di un difensore sappiamo che sta facendo fatica a trovare difensore a cerbi potrebbe essere la soluzione la lazio potrebbe abbassare il prezzo magari a 2 3 milioni di euro e così si potrebbe chiudere la trattativa sicuramente questa è una vicenda che non fa piacere la lazio sicuramente è una cosa che la lazio deve cercare di risolvere il prima possibile perché ripeto avere la cerbi in tribuna sarebbe una sconfitta per tutti per la lazio ma anche per il giocatore stesso che così perderebbe la nazionale questo ovviamente il mio pensiero qual è il tuo scrivi un commento qua sotto noi ci troviamo domani con un altro video ciao